Allora, la sfida contro Crash. L'unico punto abilità è quello di non subire danni, quindi bisogna aspettare che faccia i suoi attacchi, evitare appunto i suoi controattacchi anche, arrostirlo quando finisce di lanciare onde e raggi. Ok, una buona idea per schivare questa è mettersi di lato e cominciare a caricare non appena arriva il raggio. Adesso a breve comincerà a inseguirci. Ok. Eh, con la super fiamma non è così facile. Ok. Adesso si mette in seguirci, basta scappare intorno in cerchio, cioè correre in cerchio e girare intorno appunto, fino a quando non si stanza. Continuo a scappare. Ok. Ok. Mancano gli ultimi due colpi. L'ultimo però è diverso da una volta, perché appunto una volta faceva così, come sta facendo ora. Vediamo se va su uno blu. Ok. Solo che ora, se non è abbastanza vicino, non attacca. Quindi l'idea è andargli incontro, però continuare a caricare per scappare via. Ok.